Ok Giancarlo che cosa facciamo? Andiamo a farci un bagno al mare così ci rinfreschiamo le idee, a parte le stupidaggini a me sembra un buon mix-up, mi piace molto, è vero. Lo dice capitano, parola del capitano, ma quello abbiamo mare di gelato del concerto che è stato fatto, quindi io quello che vorrei è strappolare le immagini dell'ultimo singolo che è in radio in questi giorni a piene mani e dargli un aiuto e un supporto in rete, a me sembra delle immagini bellissime, quindi secondo me mandiamole in rete e via, mandiamole in rete, dai. Ok, fatemelo controllare almeno un attimo. Controlla, controlla. Ah, piene mani, voglio offrirmi a te, regalarmi a te. Tra le mie mani, io ti prenderò, ti accarezzerò, inseguendo il mio istinto, dove mai si era spinto a cercare i brividi più e lunghi per te. Ah, mammi. Ah, mammi. finché non avrò raggiunto ogni parte, ogni punto, fino a quando avrò le mani piene di te. Sì, le mani, le mani, le mani, piene di te sanno più. Ah, ha piene mani, per sentirti in me, come voglio io. E se rimani qui, qui ancora un po', io continuerò. Sulla scia di un sentimento, come mai ho avuto dentro, che mi sta portando a darti tutto di me. Amma, mammi. Ammi. 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 Stai qui finché non avrò raggiunto ogni parte, ogni punto, fino a quando avrò le mani piene di te. Fino a quando avrò le mani piene di te Ah mammi, ah mammi, ah mammi Ah mammi